Ciao Caterina e grazie per la disponibilità. Cosa ti aspetti da questa nuova edizione del Cantante Mascherato? Di divertirmi ancora di più. Certo, 12 maschere sono tante, quindi insomma non mi devo confondere, devo capire chi c'è sotto la maschera, ma soprattutto divertirmi e non farmi prendere troppo provo di divertimento, se no mi perdo, secondo me, dei dettagli giusti. Senti, c'è una maschera che ti intriga più di altre al momento? Sì, la gallina, il pesciolino rosso e poi la lumanca, cioè quanti sono lì sotto?